Preparati a un autunno ricco di colpi di scena e rivelazioni mozzafiato. La serie Endless Love sta per tornare su Canale 5 e le avventure dei nostri protagonisti si faranno sempre più avvincenti. Se pensavi che le cose fossero già complicate, aspetta di vedere cosa accadrà nei prossimi episodi. La verità sull'omicidio di Ozan La trama si infittisce e il cerchio si stringe attorno all'assassino di Ozan Sedzin. Chi sarà mai il colpevole? Prepara i popcorn, perché stiamo per scoprire che l'assassina è Zeynep. Ma non è tutto. Emir, il personaggio enigmatico, ha sempre conosciuto l'identità dell'omicida. Questo segreto sconvolgerà le dinamiche tra i personaggi e porterà a una serie di eventi inaspettati. Asu, la sorella di Emir, gioca un ruolo cruciale in questa intricata rete di inganni. Sarà lei a convincere Emir a rapire Zeynep e a consegnarla a Kemal e Nihan, che da tempo cercano la verità sull'omicidio. Ma come reagiranno i protagonisti quando scopriranno la verità? Kemal sulle tracce dell'assassino La tensione aumenta quando Kemal scopre chi ha ripulito la stanza di Ozan dopo l'omicidio. Questo dettaglio, apparentemente insignificante, si rivela cruciale per svelare l'intero mistero. Insieme a Nihan, Kemal incontra la donna assunta per ripulire la camera in cui Ozan era ricoverato. La loro missione è chiara, convincere la sconosciuta a dare un appuntamento all'assassino del giovane Sezzin. Ma attenzione! Kemal non sa che la donna è in combutta con Emir, il quale ha sempre saputo che Zeynep è stata l'autrice dell'orrendo crimine. Quando Kemal ordina a Zeynep di sorvegliare la donna per tutta la notte, sembrano esserci buone possibilità di scoprire la verità. Tuttavia, il piano di Kemal subirà un imprevisto. Al mattino seguente, due uomini di Emir si presenteranno alla porta della donna vestiti da poliziotti. Zehir dovrà fuggire per salvarsi. Questa fuga permetterà alla donna di sparire nel nulla, rendendo ancora più difficile per Kemal e Nian scoprire chi si nasconde dietro l'omicidio. Nel frattempo, Asu suggerisce ad Emir una mossa audace, dare a Kemal ciò che vuole, ossia l'assassino di Ozan. Emir accetta il consiglio e organizza il rapimento di Zeynep. Il piano è semplice ma spietato. Farla portare nel luogo dove l'assassino ha dato appuntamento alla donna contattata in precedenza da Kemal e Nian. Zeynep si trovava in una situazione disperata, intrappolata in un incubo da cui sembrava non potesse sfuggire. Dopo essere stata narcotizzata con del cloroformio, si risvegliò in un luogo sconosciuto, avvolta in un grande pacco regalo. L'oscurità la circondava e il suo cuore batteva forte per la paura. Non sapeva che la sua vita stava per prendere una piega drammatica e inaspettata. Nel frattempo, Kemal, ignaro del destino della sorella, si preparava a festeggiare un momento speciale. Quando finalmente aprì il pacco, il suo mondo crollò. La sorpresa che avrebbe dovuto essere gioiosa si trasformò in un incubo. Zeynep era lì, priva di sensi, e accanto a lei c'era una lettera che rivelava l'orribile verità. La sua amata sorella era coinvolta nell'omicidio di Ozan, un crimine che avrebbe scosso le fondamenta della loro famiglia e delle loro vite. Questa scoperta sconvolgente non solo devastò Kemal, ma ebbe anche ripercussioni profonde sulla relazione tra lui e Nian. La tensione aumentò quando Nian, già provata da eventi recenti, si sentì costretta a prendere le distanze da Kemal. L'amore che li univa sembrava svanire nel nulla, sostituito da un abisso di sospetti e incomprensioni. Nian, lacerata tra il desiderio di proteggere la sua famiglia e la sua crescente angoscia per la situazione di Zeynep, si trovò a dover affrontare una scelta impossibile. La distanza imposta da Kemal divenne insopportabile per entrambi. Ogni giorno senza di lui era un tormento per Nian, che si sentiva intrappolata in una rete di segreti e menzogne. La pressione aumentava mentre i due cercavano di navigare tra le conseguenze delle loro scelte. La gelosia e il rancore iniziarono a intaccare ciò che rimaneva del loro amore. In questo dramma vincente, Zeynep non è solo una vittima. È anche il catalizzatore di eventi che porteranno a una resa dei conti finale. La sua situazione disperata costringerà tutti i protagonisti a confrontarsi con le proprie paure e desideri più profondi. Ogni decisione avrà conseguenze devastanti e la lotta per la verità diventerà un viaggio tortuoso verso la redenzione o la rovina. La storia di Zeynep, Kemal e Nihan è una spirale di emozioni forti. Amore, tradimento e vendetta si intrecciano in un racconto appassionante che tiene ghigli spettatori con il fiato sospeso. Con ogni colpo di scena, il destino dei personaggi diventa sempre più incerto, lasciando tutti a chiedersi se l'amore possa davvero superare le avversità più oscure. Asu e Demir hanno pianificato tutto nei minimi dettagli per separare i due innamorati. Riusciranno nel loro intento? La tensione tra i personaggi cresce e ogni episodio promette nuove sorprese. Zeynep ospite a Verissimo Ma non finisce qui. Sabato 28 settembre l'attrice turca Hazal Filiz Küşüköse nota per il suo ruolo di Zeynep nella serie Endless Love è stata ospite nello studio di Verissimo. Intervistata dalla conduttrice Silvia Toffanin Hazal si è raccontata al pubblico italiano per la prima volta. Nata a Mersin il 9 febbraio 1988 Hazal si è trasferita con la famiglia ad Ankara durante l'adolescenza e ha conseguito una laurea in scienze nel Dipartimento di Chimica. La sua carriera da attrice è iniziata nel 2009 e ha partecipato a numerose serie sia prima che dopo Endless Love. Grazie al suo straordinario talento nel ruolo di Zeynep Hazal ha vinto diversi premi tra cui il Golden Object Awards come migliore attrice non protagonista. Preparati quindi a seguire non solo le avventure sullo schermo ma anche ghili e aggiornamenti sulla vita dell'attrice. Sarà interessante scoprire come Hazal interpreta il suo personaggio e quali segreti ci riserverà durante l'intervista. Un finale avvincente. Con tutti questi intrighi e colpi di scena in arrivo i fan sono ansiosi di vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi episodi. La tensione tra i personaggi aumenterà ulteriormente mentre si avvicinano alla verità sull'omicidio di Ozan. Kemal e Nihon saranno in grado di superare le avversità e rimanere uniti? E cosa accadrà quando Zeynep verrà finalmente confrontata con le conseguenze delle sue azioni? Gli spettatori dovranno rimanere incollati allo schermo per scoprire come si risolveranno queste intricate dinamiche. In conclusione Endless Love promette un autunno ricco di emozioni forti e rivelazioni sorprendenti. Non perdere neanche un episodio. Ogni settimana ci saranno nuovi sviluppi che ti lasceranno senza fiato. Preparati a vivere insieme ai protagonisti questo viaggio pieno di suspense e passione.